Sono Letizia Franzoni, gestisco la stazione di servizio con la mia famiglia da 20 anni, servo i clienti fuori agli erogatori e poi anche un po' la gestione interna. Da 12 anni ballo a Parma, in una scuola di Parma, faccio salsa cubana, ballo con il mio compagno Carlo Gavioli, che è anche mio marito, sono specializzata in salsa cubana, in baciata e in qualche stile anche del chacha, della rumba. Questa è la mia più grande passione e speriamo di continuare con tanto cuore. Ciao, sono Sonia Solimeno, lavoro al bar Franzoni di Suzzara da quattro anni e alla sera mi esibisco in vari locali come cantante. Il gruppo si chiama Orchestra Sorriso, facciamo un po' di tutto, hanno 80-70 musica latina e che dire, vi aspetto magari sia al bar al mattino con i miei caffè e i cappucci e alla sera invece ad ascoltare l'orchestra Sorriso. Buongiorno, ciao! Facciamo il cappuccio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie a tutti.